buongiorno a tutti allora magliettina della settimana con frase della settimana come sempre e adesso si va a parlare di campionato europeo perché stasera due partite non male non male devo dire due partite non male poi ho potuto vedere diretta gol quindi era anche un piacere passavano da una all'altra da una all'altra da una all'altra non c'era un attimo di tregua e ci si è abbastanza divertiti ma andiamo a vedere come è andato questo gruppo di come domodossola che praticamente altre tre squadre che passano il turno e quindi per ucraina e finlandia le chance di arrivare terze continuano a diminuire perché altre due squadre hanno fatto quattro punti e quindi si sono qualificate come seconde terze ma andiamo a vedere come sono andate le partite perché l'Inghilterra stitica però non prende gol è stitica ma non prende gol con un pareggio e due vittorie stitiche per 1 a 0 l'Inghilterra vince il girone la pratica repubblica cieca viene diciamo risolta nei primi 20 minuti di partita col gol di sterling e poi per il resto la repubblica cieca ci prova ci prova ma non è che riesca a fare granché contro la munita difesa inglese più scoppiettante invece la partita tra croazia e scozia e tra due squadre a cui il pareggio non serviva una beata giovanna croazia croazia che passa in vantaggio con vlasic che assist di perici tiro in caduta di vlasic palla in gol però poi a fine primo tempo arriva il pareggio del buon McGregor per la scozia e quindi lì uno sta a vedere che questi fessacchiotti vanno a pareggiare reciprocamente perché non vogliono perdere e si auto eliminano dalla competizione e invece no ancora perisic che tocca per modric che si inventa un gol ma che gol che che gol ha fatto che gol ha fatto ma ricordato un gol che fece Ronaldinho da fermo in una partita di coppa dei campioni di tanti anni fa di esterno proprio l'ha preso proprio col piede che faceva questo movimento così no con la palla che va a banana no quando il tiro a banana avete presente il tiro a banana quello che fa così no quello che svolazza verso dal centro va verso l'angolo portiere lo vede all'ultimo poi la palla si allarga sempre di più quindi si allontana dal portiere che svolazza come un pazzo per cercare di prenderlo vedi la sua manina che si allunga il più possibile neanche fosse l'uomo di gomma ma non ci arriva la palla gli passa vicino vicino e termina nell'angolino che fa anche riva quindi la croazia va sul 2 a 1 e poi e poi e poi ci pensa Ivan Ramiro perché sapete che perisic io lo chiamo Ivan Ramiro perisic che con un bel colpo di testa va in cielo sul calcio d'angolo la spizza verso il palo opposto palla sul palo e quindi in rete proprio più angolato di così non la poteva mettere e come diceva il cronista quando la partita si fa dura perisic c'è perisic quindi signori miei volete perisic pagare perisic 20 cucuzze altro che 10 20 bravo Marotta sparare alto vogliono i nostri giocatori sparare alto così come con Hakimi 75 più 15 se no ce lo teniamo comunque signori miei Croazia-Scozia 3 a 1 risultato finale Croazia che si qualifica come secondera ma adesso andiamo a vedere la classifica e poi dopo vado a vedere se hanno già messo perché c'è c'è una possibile Inghilterra contro la seconda del girone F e già qua sto godendo come un riccio perché almeno una delle due si leva dalle palle comunque classifica finale del gruppo di come domodossola Inghilterra prima con sette punti e vosso cazzi tua come direbbe quello là perché vai a beccare la seconda del gruppo F Croazia seconda per differenza reti 4 gol fatti 3 subiti Repubblica Ceca 3 gol fatti 2 subiti quindi la Croazia avendo segnato un gol lettino in più ha subito un gol in più ma ha segnato un gol in più quindi ha più 1 con 4-3 la Repubblica Ceca 3-2 Croazia seconda Repubblica Ceca terza Scozia Svulazza a casa e allora adesso andiamo a vedere quali saranno gli accoppiamenti quindi mi stop un attimo vado a vedere perché l'Inghilterra becca la seconda del gruppo F non ci scappa però bisogna vedere come vanno le partite domani sera perché domani sera potrebbe succedere di ogni potrebbe addirittura succedere che Portogallo e Ungheria vadano a casa tutte e due se Germania e Francia vincono Portogallo e Ungheria potrebbero andare a casa tutte e due potrebbero andare a casa dipende dal risultato ma il Portogallo è molto a rischio comunque adesso vado a controllare la situation allora 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 è tutto in divenire ragazzi è tutto in divenire perché la Croazia affronterebbe la seconda del gruppo E l'Inghilterra la seconda del gruppo F e ripeto se domani Germania e Francia dovessero battere l'Ungheria e il Portogallo la Francia sarebbe prima quindi l'Inghilterra e Germania verrebbe fuori mentre invece nel gruppo E c'è la Svezia, la Slovacchia, la Polonia se la Polonia batte la Svezia potrebbe diventare lei la seconda del gruppo se la Slovacchia pareggia con la Spagna potrebbero mai finire tutte e quattro a quattro punti perché se la Polonia batte la Svezia la Slovacchia non perde con la Spagna la Spagna è eliminata con tre punti perché resta tre ed è ultima nel girone la Slovacchia va a quattro, raggiunge la Svezia che è stata abbattuta eventualmente la Polonia la Polonia raggiunge la Svezia, si trovano quattro squadre a quattro punti centrerà la classifica a Vulsa e non ci si capisce più una mazza se viceversa la Svezia non perde con la Polonia ma la Spagna batte la Slovacchia vanno a cinque quindi Svezia e Spagna potrebbero essere pari punti a cinque quindi potrebbe uscire fuori una Spagna o una Svezia quindi è tutto in divenire, in ogni caso la Croazia affronterà la seconda del gruppo E l'Inghilterra la seconda del gruppo F per le terze bisogna aspettare di vedere quali saranno le quattro terze che escono perché c'è tutto A, B, C, D, E, F, G ogni terza viene appioppata una squadra diversa e ci sono le quattro opzioni quindi bisogna vedere come verranno tenute conto l'unica certezza è che la Svizzera dovrebbe giocare si sa con chi giocherà la Svizzera però adesso non mi ricordo con che squadra giocherà la Svizzera perché era l'unica sicura di passare il turno forse con l'Olanda però non ne sono convinto vado un attimo a controllare, scusate infatti non si sa ancora le uniche due partite sono Galesa, Dimark e Taglia-Austria le altre sono ancora tutte da definire quindi restiamo in attesa e vedremo cosa succederà l'unica cosa quasi sicura è che la Finlandia svolazzerà a casa e l'Ucraina sta rischiando anche lei perché bisognerà vedere domani come finisce Slovacchia-Spagna perché è l'unica che poi non vuol dire perché se la Polonia batte la Svezia basta arrivano tutte una a 5 e le altre due a 4 quindi è già risolto il problema e anche l'Ucraina dovrebbe andare a casa poi bisognerà vedere anche l'ultima giornata perché se Germania e Francia dovessero battere Portogallo e Ungheria andrebbero a 6-7 lascerebbero a 3 punti il Portogallo con una differenza reti di M e l'Ungheria sarebbe già fuori con un punto e quindi magari l'Ucraina dovrebbe sperare che la Francia batta il Portogallo e la Germania batta l'Ungheria in questo modo il Portogallo potrebbe essere eliminato avendo alla fine della fiera una differenza reti pessima per ora ha 5 gol fatti e 4 subiti quindi ha più 1 e ricordiamo che l'Ucraina è a meno 1 con 3 punti quindi in ogni caso dovrebbe perdere nettamente in tipo goleada contro la Francia se perde 3-0 con la Francia va a casa se anche solo perde 1-0 potrebbe passare come peggiore terza con una differenza reti di 0-0 però andrebbe benissimo perché l'Ucraina è a meno 1 la Finlandia è a meno 2 di differenza reti poi bisognerà vedere anche la Slovacchia cosa fa con la Spagna perché la Slovacchia ha 3 punti se perde con la Spagna per un gol potrebbe essere a pari con no perché l'Ucraina ne ha fatti di più ha fatto 4 gol fatti e 5 subiti quindi invece deve riuscire a perdere perdendo con parecchi gole di un gol solo quindi 3-2, 4-3 eccetera eccetera se no andrebbe a casa anche lei e ne approfitterebbe l'Ucraina è tutto in divenire ragazzi è tutto in divenire vedremo cosa succederà per ora le uniche certezze sono appunto Galles-Danimarca partita di grande libidine molto equilibrata Italia-Austria che io sinceramente vi butto lì 1-2 a 0 per l'Italia se ci facciamo veramente buttare fuori dall'Austria è giusto che andiamo a nasconderci peggio che con sventura veramente peggio che con sventura con tutto il rispetto per l'Austria con tutto il rispetto per l'Austria e tutto quello che volete però dai 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 su detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao ciao